Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Siamo qui con Leo Bella raga E oggi vorremmo di un po' di cose In questo video però parlerà Dovi Perché io E tu che erai voluto fare questo video? Io non lo volevo fare No scherzo, lo volevo fare Cioè no, in realtà non proprio Però vabbè No io sì ma perché Cioè ma perché ci sono cose più importanti Di cosa? Eh delle cose che andiamo a parlare anche Ah sì sì Allora prima cosa Iniziamo subito dai Allora prima cosa che vorrei dire A Christian Macchi Allora prima cosa non è un video di sì Questo Che sia chiaro però Ehm Quanti crei mentre parliamo dei nostri scritti Quanti scritti abbiamo Cri dice Eh ma io ne ho più di voi Ne so più io Cioè contano le visual secondo me Secondo me Dal mio punto di vista Secondo te Davide? Ehm Sì Vabbè Ehm Non era molto importante Era solo questo perché Volevo farlo sapere E poi Altre quattro cose Potrò Non mi ricordo Molto bene Vabbè altre quattro cose Delle tante Davide Ciao Tre tre Allora Dopo il virus Sto virus Molto brutto Noi usciremo Ma subito E faremo dei video L'opera Perderemo tempo Non so se Esatto Ok Le grazie Cioè Io voglio uscire Cioè tipo faremo anche i video vlog Esatto Esatto Tipo dove usciamo magari Esatto Ovviamente col telefono però regalo Registrare Esatto Perché ho visto che gli iscritti vengono con i vlog Ah sì Io ho nutto di schifo No ma do Per iniziare non è così male Ho un po' un po' un errore Ma si stavano un altro numero Ragazzi Ok Allora la zona è qui vicino da via Mai meno Molto E poi vi volevo parlare anche di sta cosa Allora La gente che guarda i nostri video Ehm Ve l'ho detto a chiaro in fondo Perché non vi iscrivete? Ah Cioè tipo la gente guarda i miei video Ma mi hanno guardato un video in 50 persone Però ho 22 iscritti Voi sapere sta cosa perché Allora partiamo dal punto di vista che Devo alzare il volino Oh Ma Proprio quando mi devo alzare il volino Inferno logico Non fai Ti stai sbagliando da me Una terra Scappo 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 Aiuto Bravo Bravo Ma io non ho messo a terra Però Ho io sto vizio di decidere sempre subito le persone Vabbè vabbè Magari questo è un amico Vabbè Abbiamo organizzato Abbiamo più organizzato Ehm Io Cioè Io Davy e Cristian Io Davy e Cristian Tu Io Tu E' Cristian Cioè quello del classio Non proprio organizzato Oh però Ma io ve li sapevo una cosa Ma sappiamo noi già nel nostro canale Come facciamo a farmi un altro Oh vabbè Quello nessun problema Basta Quanto Account Un'alta Mello E' basta Ah ci facciamo una cosa Ma Non creiamo Non creiamo un altro canale O altri canali Ma sul nostro canale Portiamo tipo Video e tutto insieme Capito? Cioè 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 Io e te dai facciamo un video di calcio no? Eh lo portiamo sul mio canale sia sul tuo Così è come se abbiamo fatto un canale e lo vediamo tutti Esatto si Va bene? Si infatti c'è Perché se no è un casino così Perché almeno voi non dovete cercare nulla Siete già sul nostro canale Vabbè a parte questo Niente guardatevi la partita che vedete E niente giusto dove Esatto 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 No non la voglio Non la voglio Cioè non la voglierà Di prenderla tanto sono Cioè no Non mi credo che calveri Ah Dai vieni qui che prendo la porta Tutto stocato Lutta lutta che noi prendiamo le cose Le bar Ehm Sai che c'è gente Che pasta C'è davvero gente? Eh ho sentito qualcosa Sì Eh sì ma non ho sporto ma Eh esatto che sfiga Comunque partiamo dal punto di vista Che ho un moto di colpi da me Fate Ci ucciderò La terra Una terra Lo scannerizzo L'altro là Morto Ok ok Tova solo va un po' vicino Ma non è possibile Cioè io ho un R però Ho fatto due prima Raga ehm Su il mio canale non lo so se usciranno video di Minecraft Su il mio canale non so se usciranno video di Minecraft Perché Vedo che Va molto di mondo Cioè non di modo però Alla gente piace I video di Minecraft Cioè noi poi cosa vogliamo di più abbiamo anche il sottofondo dei canicaballoni Sotto Cioè abbiamo tutto Tipo quando dici una parolaccia te la Te la bippa il cane Eh appunto Senza che vai a montare i video Tutto difficile No Non c'abbiamo il cane Poi i nostri cani sono Sono quasi Uno Un dei pochi Un dei pochi Si dice Vabbè I nostri due cani sono uno dei pochi che abbagliano Così tanto Il mio cane Allora Il mio cane abbaglia anche se è cieco cioè Cioè credi Vabbè Non si lascia fermare Non approfondiamo sta cosa Esatto Noi ti ricordo che andate le memorizzano Sì ma vabbè è qua è qua è qua Raga ieri è uscito il mio video della carriera allenatore andatelo a vedere Incredibile escono Incredibile escono video uguali a Davide non so perché Oh No sto dicendo Escono solo ma un po' fucili verdi Fatemi ma dove sei Sono da te Te non proprio Perché non mi fa Ma non c'era mica la casa Ma trovo solo non c'è bene Qua ci sono gente E' là la gente Gente? Oh ma mi sembra l'acqua più alta qua Ti aiuto io Davide Mi sparo io 26 blu 26 26 26 Bianco Ah non sono qui No scannerizzalo Poi penso che il mio compagno la qua Eh di solito è così E' qua il compagno Io che farm Tu che ucciderai la gente Eccolo dov'è E' là Ma tirato Uno bianco eh Con andato a bianco quello E mi avvicino un po' Al cecchino Ma ci ha tirato una lecca Arrivederai un attimo Mi uno che ho fatto Sentono il volo Bravo ma Com'era bianchissimi Sono no L'ho visto l'ho visto L'ho da più chiare Prova da andare da uccidere Se ci riesco Se ci riesco Cioè la proviamo insieme Andiamo con l'elicottero al massimo Perché avvicino Comunque ecco una R Un R verde No no Lascio solo l'air blu Oh L'ho trovato adesso No no Mi piace più quello La voglia Mi piace più quello Ah no dai Non l'ho visto posso io Vabbè io mi prendo la R verde È ancora meglio Cioè magari non è proprio meglio però Si avvicinano All'istate già Le qualità Quello è bellissimo allora Quello Cosa devo dire allora io Ho questo bellissimo Pampa blu Oh Qui c'è Il bello di me Facciamo un altro Cioè di cosa blu Oh È one hit È one hit È one hit Sì Aspetta lo uccido così Sì Mi sparano Mi sparano Non lì è 22 22 22 22 22 22 Oh Oh Morto Possa non ha capito proprio come che stava giocando Avete ai scindini qua c'è un Qua Questi sono fantastici Là c'è un cecchino Vabbè mi trovo in questo tipo forza Mi ricattendo di mai di chitto eh? No No Porca I bar I bar Mi fanno paura Oh cavolo Oh cavolo dai c'è gente No no Proprio qui E' incaduto per sbaglio Cioè per sbaglio Cioè per sbaglio Proprio li sentiti Sono dentro la cosa Sono dentro i condotti Dov'è? C'è gente lì sopra 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 Guardalo Prova a cerchinarlo Eh adesso si alza la testa Però attento anche te No Fante ce l'avevo mai costruito davanti Vai 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 Preso Vabbè lascio solo Basta 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 che ti cerchi nella notte No 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 E' provo Bello nooo E' non rischiare Aspetta qui Aspetta qui Dobbiamo andare in zona eh Tu hai una jump? Ah si La piazzo Mettila qua Mettila qua Mettila qua Dove dove? Qua da me Qua da me Dai Ok Mi mezz'ora per mettere il mezzo No perché stavo modificando Non posso rimettere No perché Ah Perché ho pensato Cos'è non ce l'ho Bianco Bianchissimo 26 bianco Ah Si coglioni Hai Vabbè dopo Dopo mi faccio il pesce Dopo mi faccio il pesce Dopo mi faccio il pesce Lì o no non posso adesso No c'è uno 54 mi hanno cecchionato Davida dietro Copidi da tutte le parti Si Metti il ferro Vai curami Adesso tutto tranquillo Ma chi sparo Tu sei il migliore curatrice di tutto l'universo Cioè non può passare un razzo Aspetta Davi no No Davi non apri Davi Davi cosa stai facendo Non sto Capri Opri Oh no 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 Capita Ma dove sono questi Da dietro Sulla Non li vedi Una terra Pesca Ragazzi Pesca 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 E' da Allora Pesca 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 mio no no portami in braccio lanciami se vuoi lanciami dietro l'albero dietro l'albero chanel chanel det chanel 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 foto al cd si si voglio me di tutto ok perfetto perfetto mi qua non avevo chiuso mi la dici di eh si che riusciamo dobbiamo arrivare qualche chilo carica tutto carica tutto io ho caricato già tutto 21 21 21 no avrò neri da promuovere troi colpi del lanciarazzi ma vai trovi due cindone a 50 la giarazzi jump colpi questo cid ma do fra tutto 7 la come ha fatto cadere tutto eh ah mi ha messo una jump oh ho visto la oh io io non capisco dove l'altro sono due qua dammi i colpi i razzi eh e costruisce il ferro eh non ce li ho colpi l'azzo sono più forti eh noi si si puciamo no 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 però lo hanno un po' più forte secondo me oh appena va la appena va la quante la la sei letta la jump no l'hanno distrutta l'ho è no venga venga uno una terra Vittori Una maledizione è stata sconfitta Esatto Da canale Vabbè Io potrò chiudere qua in bellezza questo video Lo carico subito Lasciate un like Iscrivetevi Condividete Commentate se volete E balla raga Ok Anche voi